ciao amici di Napolità la vigilia di Napoli Torino partita importantissima raga si deve fare una prestazione di livello non voglio dire che si deve vincere ma stiamo lì perché abbiamo bisogno di dare un senso a questa stagione partita importante sono arrivate le parole di Iuric ma parliamo anche delle parole di Calzona della questione stadio perché c'è un maradona tutto esaurito ma prima di iniziare ringrazio tutti gli abbonati nuovi abbonati al canale che potranno avere a disposizione alcuni contenuti esclusivi voglio ringraziare chi si abbonerà dopo questo video ma soprattutto saluto chi sta passando in questo momento per la prima volta su Napolità sul nostro canale che parla del Napoli a 360 gradi e quindi vi saluto e vi invito ad iscrivervi al canale ad attivare la campanella delle notifiche lasciare un like a questo video mi raccomando i like sono importanti così camminiamo un po' nell'algoritmo quindi è importantissimo per noi domani partita fondamentale del Napoli che affronta la Iuric il Torino di Iuric e dobbiamo andare a vedere quale saranno le scelte tecniche che non ci sarà in campo è una cosa importante da sottolineare il fatto che non ci sarà in campo Iwan Iuric è importante perché lui fa realmente cambiare il ritmo alla squadra io molte volte vi dico che l'allenatore si c'è non c'è non è che incide tanto ma invece con Iuric è importante mancheranno Ilic mancherà anche Ricci calciatore che nelle ultime partite ha giocato spesso da titolare recupera per Ovevoda non c'è manco Tamezze ma di queste cose ne parliamo stasera raga perché stasera alle 23 c'è il pre match parleremo ovviamente delle probabili formazioni di Galzona di Iuric ma voglio sapere le vostre perché sapete che nella live vi faccio vedere anche alcune cose attraverso il nostro software importante a proposito di software e di app in questi giorni vi diamo una notizia importante perché stiamo facendo una cosa molto molto simile però lo saprete in questi giorni mi raccomando non perdete nessun video perché ci sono delle novità importanti vi stavo dicendo stasera alle 23 andiamo a vedere le formazioni voglio sentire le vostre perché è importante perché c'è anche il dubbio non si capisce Rachmani non dovrebbe farcela quindi si va verso Ostigard dal posto di Rachmani a sinistra poi chi tra Juan Jesus e Nathan poi c'è il classico ballottaggio sulla sinistra tra Mario e Oliveira poi c'è il classico oramai ballottaggio sulla mezzala sinistra non si capisce Zellischi tra ore ma esce anche un altro ballottaggio che quello in alto a destra Politano Raspaduri dobbiamo capire quale saranno le scelte del mister è importante raga domani è una partita fondamentale dobbiamo andare a capire anche quale sarà l'atteggiamento alle due squadre ma questo ne parliamo stasera che vi faccio vedere un po' come si deve affrontare questo Torino e come ci verrà probabilmente affrontare il Torino perché Iuric è un allenatore come Casperini sono proprio allineati ad un calcio ben chiaro e preciso al di là di quello che l'avversario fanno più o meno sempre le stesse partite quindi possiamo analizzarlo in modo corretto vi stavo parlando prima delle parole di Ciccio Calzona che ha perché Ciccio ragazzi chiama Ciccio perché vuole essere chiamato così a cronaca di Spogliatore parla del momento straordinario della chiamata del Napoli dove lui era a correre no stava facendo footing con il fratello e mentre gli parlavano di questa proposta lui non ha esitato manco un secondo perché prima di tutto lui si sente rappresentante di Napoli di una regione accettato nell'immediato e aveva voglia di mettersi in gioco e soprattutto dare una mano al Napoli il Napoli che è stato importantissimo per lui la cosa straordinaria che lui quando si mette nella macchina per venire a Napoli apre sto finestrino e inizia a urlare per scaricare tutta la sua adrenalina però poi ci fa sapere che nella partita poi col Barcellona si tranquillizza perché ovviamente lì ha delle responsabilità quindi deve anche avere un altro tipo di atteggiamento a noi ci piace il calzona che vuole incidere e soprattutto viene per la causa del Napoli viene ovviamente per mettersi in gioco e ovviamente dare uno slancio importante alla carriera ma anche la sua disponibilità per un club che in questo momento è in difficoltà va sottolineata perché dobbiamo essere anche onesti in questo momento prendere una squadra come Napoli nelle condizioni in cui si trovava era molto pericoloso ma il mister l'ha venuto senza alcun dubbio non ha mai avuto neanche un secondo di esitazione e ci sta già facendo vedere delle cose molto molto interessanti ci sono delle domande per esempio mi arrivano delle domande sotto ai nostri video che lo avvicinano più a Sarri lo avvicinano più a Spalletti io vi dico la verità io sto vedendo un calzona che mi sta convincendo soprattutto sulle idee però io posso veramente credere che lui sia una miscela perfetta non lo possiamo ancora dire dobbiamo aspettare qualche partita in più perché come parlavo di Garzia dandogli tempo le dieci partite come ho parlato di Mazzari dandogli tempo le dieci partite per onestà dobbiamo dare dieci partiti di tempo anche a Calzona quindi ad oggi io però ho già un po' un'idea perché secondo me in Calzona c'è una parte di Sarri una parte di Luciano Spalletti ma soprattutto una parte di Ciccio Calzona che secondo me è stato bravo ad unire le due idee che poi sembrano vicine ma sono poi distanti perché secondo me lui da Sarri assimila molto le metodologie soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva per quanto riguarda l'attenzione maniacale su determinate cose perché ricordiamoci sempre che il calcio di Sarri quando c'era Calzona era completamente diverso al calcio di oggi probabilmente quel calcio ad oggi non esistere anche più perché parliamoci chiaro Sarri non è più quel Sarri nella Lazio ha dovuto modificare molte cose rispetto a quello che era il Sarri di Napoli quindi secondo me quello a Calzona gli ha fatto bene il Sarri per quanto riguarda le metodologie è inserito nel mister però poi secondo me il lato forse ad oggi predominante è quello di Spalletti perché anche qui voglio fare una precisazione ricordiamoci che Calzona lo vuole fortemente Spalletti lo riporta con lui perché lo ritiene una persona importante per poter fare una gestione particolare per metterlo in una situazione importante dello staff e secondo me tanto di Spalletti c'è in Calzona perché Spalletti già fa un calcio nuovo fa un calcio moderno un calcio che ha portato poi a disintegrare un campionato quindi le ultime metodologie e le ultime cose apprese da Spalletti secondo me gli hanno fatto fare il salto di qualità a Ciccio Calzona per esempio quello che potrebbe essere il colloquio con i calciatori il modo di rendere importante ognuno di loro questo sicuramente lui lo ha preso e lo ha lo ha percepito da Luciano Spalletti che ha fatto un lavoro straordinario anzi oggi è il compleanno del mister e quindi gli faccio gli auguri a nome mio a nome di tutta Napolità quindi questa parte non è da sottovalutare quindi se vogliamo andare a fare proprio una chiusura secondo me il metodo di allenamento è molto vicino a quello di Sarri ma l'atteggiamento è il modo di mettersi di fronte ai calciatori e tanto di Spalletti oltre anche a quello che è il calcio moderno secondo me lui sta riportando anche per me facendolo in modo corretto quelle che sono determinate cose il pressing la pressione la riaggressione diciamo che quella è una cosa di Spalletti quindi potrebbe uscire fuori un mix perfetto ma ripeto quello che ho detto all'inizio diamo tempo al mister che secondo me se ci fa vedere alcune cose convincenti al di là di quelli che sono i risultati andrebbe messo come priorità per il prossimo allenatore cioè calzona poi magari altri questo è un mio consiglio che do anche alla società ma abbiamo tempo per parlare chiudiamo con invece la situazione stadio perché ci sono due cose da dire lo stadio il maradona è va verso il sold out quindi ancora stadio pieno per questo Napoli e io sono contentissimo ricordatevi che chi va allo stadio fa anche per me che sono lontano quindi vi ringrazio anche anche io da qui e poi ci sta questo incontro sembra vicinissimo l'incontro stamattina Aurelio De Laurenti si è andato a Castelvoltuno ha salutato la squadra poi si è chiuso negli uffici per parlare del centro sportivo e dello stadio maradona sembra che ci sia un'apertura questo fatemelo sapere anche voi nei commenti ci sia un'apertura per togliere addirittura anche la pista ciclabile dal maradona quindi sembra che la strada stia andando verso la direzione di poter prendere il maradona poterlo fare in modo diverso ovviamente c'è bisogno di calcolare alcune cose soprattutto le tempistiche quindi vi segnalo questa notizia che arriva proprio ai ultimi ultimi minuti su questa situazione del maradona ma la cosa importante ripeto raga che ci sarà uno stadio pieno maradona pieno perché io sono sempre del parere che Napoli Torino è importante quanto Barcellona Napoli perché Napoli Torino può dare un senso al campionato secondo me non c'è bisogno di fare tanti cambiamenti rispetto alla partita con la Juve ma di questo ne parliamo stasera non mancate mi raccomando alle 23 la live pre match perché voglio sentire le vostre informazioni ragazzi il video termina qui un bacio e un abbraccio da Sasa e sempre Forza Napoli ciao 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 ciao